ragazzi mi raccomando iscrizione gratis e campanellina se volete sostenere questo canale lo potete fare gratis e prima che mi scordi buon 2024 a tutti anche ai piccioni a tutti a chiunque ero sulle colline di fiesoli con dei miei amici purtroppo uno dei miei bimbi non si sentiva tanto bene sono tornato a casa ho dovuto improvvisare un cenone ma ce l'ho fatta diciamo che siamo cascati in piedi quindi volevo fare un video augurarvi i miei migliori auguri perché poi alla fine sono un tipo lo so che c'ho un caratteraggio ma io sono un tipo che odia le bugie che odia le falsità per questo lancio un messaggio di fine anno anche a nino melodia nino melodia io non ho mai detto nulla di quelli del sud anche perché io caro nino melodia mia mamma che non c'è più purtroppo la del sud padre toscano mamma del sud non avrei mai detto una cosa del genere voi siete da querela continuamente voi non dovreste aprirla nemmeno la bocca poi tra l'altro caro nino melodia mi avevi promesso che lo avresti detto il tuo messaggio il tuo vocale qua dentro è vero giuse non mi hai mai detto quelle cose sulla gente del sud ma non avrei mai potuto anche perché io a differenza vostra ho avuto la fortuna di uscire dal quartiere di casa per il lavoro girare un po' l'Europa non ti dico il mondo quindi per me siamo tutti uguali siete comunque siete veramente guarda di livello bassissimo cioè vabbè quell'altro lì che andrebbe che andrebbe sicuramente andrebbe educato andrebbe secondo me anche sedato perché dovrebbero staccare gli internet in quella cameretta però lo posso capire non ha nulla a fare tutti i giorni ma te nino melodia dai l'attempo me l'aspetto e occhio occhio alla fanottiera perché sennò ti rimanda via quello ti ha mandato via ma diosa ragioni nino melodia e via i godi da più lo so che lo dico tardi ma meglio tardi che mai cioè il fuorigioco semi automatico lo interpretano come vogliano loro parliamoci chiaro ragazzi il fuorigioco semi automatico lo interpretano come vogliano loro perché nel momento in cui seguimi si stacca la palla la gamba di rabbiò l'estezza parliamoci sinceramente nell'immagine come per magia l'è piegata allora chi bisogna credere io te l'ho detto dall'inizio della stagione questi non dovrebbero esistere per gli esami falsi a suarez le plus valenze i bilanci questi dovrebbero giocare in poco già da una ventina d'anni o in tunisia che ne so o in iran in estonia non dovrebbero far più parte del campionato italiano però ci sono sempre e hanno anche il coraggio di rompere i coglioni agli interisti questi qua capito te l'ho detto è il centenario della famiglia agnelli occhio occhio perché tira un venticello strano e te l'ho detto tre mesi fa e te lo confermo oggi trentuno di dicembre duemilamenti tre per quello che riguarda poi tutte queste hit map per quanto concerne la valutazione dei giocatori che che poi dopo loro valutano i giocatori con la hit map in base a come si muove il gol ho capito ma lukaku lukaku contro la juve non l'ha vista cioè quello è un giocatore che contro le grandi squadre non tocca palla preso lukaku perché giudaku diciamo è un po' ancora nei nostri pensieri ci manca l'attaccante ci manca di qui ci manca di là capito quindi è inutile tu lo valuti in base alle alla hit map e in base ai gol perché lukaku non stoppa una palla lukaku ha fatto gol guarda lo sono segnato per ora lecce brescia e malta di cosa vogliamo ragionare ma queste hit map a cosa servono ti devi vedere anche con chi fa gol quanto vale quel gol che ha fatto ma di cosa ragioni e poi ritorno alle parole di acerbi acerbi ha ragione ragazzi ma tutta questa pressione addosso addosso all'inter e sono quelli della famiglia Agnelli che hanno speso 200 milioni per tre giocatori non siamo noi noi si va avanti a parametri zero a tre anni ma di cosa stai ragionando devono essere loro che devono vincere il campionato non noi loro sono obbligati a vincere il campionato perché noi lo sappiamo benissimo ormai squadra abbiamo a disposizione noi siamo quelli ma io sono contento dei giocatori quest'anno come non mai te lo sto dicendo da inizio anno ma sono i gobbi che devono vincere il campionato non siamo noi sono loro che spendono e spandano noi noi ci si fa prestare i giocatori per tirare avanti di cosa ragioni quindi senti pressioni addosso a loro non le senti le pressioni a chi a chi le rivolgono tutti all'inter perché io voglio voglio fare un appello di fine anno a mastercard che è come se fossi presidente dell'inter mastercard masterclass scusami non mastercard qualcuno ti chiama che mastercard perché riesce a risparmiare masterclass cioè bisogna qualcuno che comincia a parlare all'inter mi apisci non si può stare sempre zitti perché porgere l'altra guancia è un va sempre bene ragazzi io vi saluto vi abbraccio è vero guarda ti sto dicendo una cosa vera io voglio bene a tutti gli interisti però gli interisti quelli un po matti e gli interisti che non sopportano le bugie gli interisti che hanno dignità gli interisti e non che odiano vedere che odiano vedere razzolare come si dice in toscana nella spazzatura i veri interisti quelli di una volta quelli hanno i valori di una volta perché l'interista è diverso da tutti quegli altri tifosi e lo vedi anche su youtube con questo ragazzi io vi saluto fate un buon veglione stanno arrivando sta arrivando qualche pazzo qualche mio mio il caso magari faccio un video dopo se no ci sentiamo domani ciao